Mancano pochi giorni e si apriranno le votazioni per il video di Montesano sulla Marcellana andato in onda su Ray3 nel corso del programma Chilimangiaro in Lizza per diventare il Borgo dei Borghi d'Italia 2024. Dopo la messa in onda del video in Rai qualche giorno fa il sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi aveva affermato il giorno dopo la bellissima emozione di vedere Montesano al Borgo dei Borghi 2024 iniziamo a prepararci al voto. Poi aveva ringraziato i tantissimi cittadini per aver seguito l'iniziativa e aveva ricordato che la possibilità di votare il Borgo si sarebbe aperta il prossimo 25 febbraio. Ora dunque vengono ribadite e illustrate nel dettaglio le indicazioni da seguire per esprimere online la propria preferenza e votare il Comune di Montesano sulla Marcellana per sostenerlo e farlo diventare il Borgo dei Borghi d'Italia 2024. Una grande soddisfazione per l'intero territorio valdianese dal momento che Montesano è l'unico Comune della Regione chiamato in questa edizione a rappresentare l'intera campagna. Per votare è necessario registrarsi su RaiPlay creando un account con username, password e email. Collegandosi al sito poi e facendo l'accesso si entrerà a far parte della community RaiPlay. Dal 25 febbraio a partire dalle 17.15 fino al 17 marzo fino alle ore 23.59 sarà possibile votare gratuitamente per Montesano sulla Marcellana sul sito rai.it alla sezione Borgo dei Borghi. Si potrà esprimere un voto al giorno, fanno sapere dal Comune, invitando fin da ora tutti a votare per rendere Montesano il Borgo dei Borghi del 2024.